In questo momento storico, diciamo per fortuna un momento piccolino, speriamo duri anche poco, ciò che è prevalente nel dibattito pubblico non è una valutazione il più possibile oggettiva della realtà e di conseguenza poi delle politiche o delle azioni insomma che si basino su questo, ma è piuttosto il dare spazio all'interpretazione soggettiva del reale. Perché se io faccio una proposta di qualsiasi natura, basandomi sul fatto che una certa cosa mi ferisce personalmente, il mio interlocutore si trova nella posizione di non potermi più di tanto contraddire, pena il rischio di sembrare insensibile e quindi irrispettoso della mia persona, del mio vissuto, della mia emotività. In questo modo non si può avere neanche un dialogo, cioè io sto già dicendo all'interlocutore che non puoi contraddirmi perché io mi sento così. Il problema sorge nel momento in cui sulla base della sensibilità personale di alcuni, perché ovviamente appunto sarà sempre di una persona o un certo gruppo di persone, si pretende, o si pretende forse eccessivo, però senz'altro si suggerisce di modificare una serie di cose che poi hanno un impatto su tutti. La prima cazzata è l'attribuire alla lingua un potere magico e quindi pensare che cambiando le parole, cambiando la lingua, cambierà la realtà. Quindi ad un certo punto dire da oggi parleremo così, cambiandone quindi la struttura, nello specifico parliamo di fonologia e morfosintassi, per accontentare un gruppo di persone che oltretutto non è neanche ben identificato perché poi non si è capito chi abbia deciso che questo gruppo di persone la pensa così, nel senso che non è che le hanno intervistate tutte, voglio dire c'è qualcuno, si è fatto portavoce di un gruppo di persone, di una minoranza o della minoranza, poi alla fine noi abbiamo bisogno di questo. Ma noi chi? Naturalmente non si sa, però in ogni caso, quando anche fossero tutte le persone che sentono un disagio rispetto alla morfologia della lingua italiana, abbiamo una fallacia a monte, cioè nel senso noi ci basiamo su un'idea, un'ipotesi che non è verificata, quindi ovviamente tutto quello che proporremo sarà altrettanto assurdo. E da qui nasce appunto il titolo del mio libro, che è una soluzione senza problema, perché in realtà non c'è nessun problema nella lingua italiana, che le lingue non sono sessiste, non hanno nessuna connotazione di nessun tipo, sono solo strumenti, sono codici per comunicare, e quindi poi se non c'è un problema evidentemente non ha neanche senso discutere su quale sia la soluzione migliore, perché non ce ne dovrebbe proprio essere una. Allora, da un lato vivo anch'io questo tuo stesso sentimento nei riguardi di questo utilizzo della schwa, immaginando il cambiamento come una parabola, secondo te può essere anche semplicemente un meccanismo momentaneo di presa di coscienza su alcune questioni? A me non sembra che stia generando in questo momento, perlomeno particolare accettazione o apertura nei confronti di questo gruppo di persone, appunto non meglio identificato, tra l'altro non tutti gli appartenenti a quel gruppo la pensano nello stesso modo, a me sembra che stia generando più che altro fastidio. Fastidio è anche la percezione che non ci siano problemi reali legati a questi gruppi, e che quindi si parli del niente per questa ragione. Sì, abbiamo appreso che esistono persone che si definiscono non binarie, a parte che secondo me lo avremmo appreso comunque, nel senso, per quanto riguarda per esempio le lotte degli omosessuali o delle persone transgender, non c'entrava niente la lingua, nel senso sono state fatte lotte concrete, e quindi con molta lentezza, e certamente il processo non è ancora terminato, abbiamo iniziato a capire che esistono queste persone che sono uguali a noi, eccetera. Nel caso appunto di questa comunità, a me sembra che più che altro ci si attiri odio, odio, fastidio, non si capisce poi alla fine, c'è più che altro un oh io sono questo, adesso parla così perché devi rispettarmi, questo è quello che arriva, poi sicuramente non sarà l'intento di tutti, però dobbiamo sempre tener conto che intanto le persone sono sempre restie al cambiamento, questo è fisiologico, se gli cambi la lingua sono particolarmente restie, perché la lingua è proprio lo strumento che usi ogni giorno, e anche per ragionare, anche se non è l'unico, quindi siamo particolarmente legati alla lingua, ci dà fastidio, ci danno fastidio anche le modifiche più leggere, e che sono anche corrette grammaticalmente, quindi non mi sembra uno strumento vincente, ecco, non userei questo. Però mi chiedo se non sia un momento necessario. Ma perché deve passare attraverso la lingua? Cioè perché non possiamo farlo necessario su altri fronti, no? E' questo che non capisco. Se non si nominano le cose forse non esistono. Abbiamo le parole per nominare le persone, no? Non abbiamo un genere grammaticale apposito, ma questo non serve. Cioè in tutte le lingue del mondo, nessuna lingua del mondo ha un genere grammaticale per le persone non binarie. Alla fine io ritornerò sempre a dirti, ma perché sono una linguista, ok, ma non c'era bisogno. Cioè non potrò risponderti diversamente, ecco. Magari un antropologo ti darà una risposta diversa. Grazie. E però, Yasmina, alcuni hanno avuto bisogno. Che bisogno era? Cioè un bisogno c'era? Non era un bisogno linguistico. Io questa cosa la dico sempre, mi sto anche sentendo noiosa da sola. Cioè, allora i bisogni sono di natura varia, no? Cioè è chiaro che il bisogno di bere acqua non è uguale al bisogno di sposarsi, no? Cioè sono bisogni, però non sono dello stesso tipo. Al bisogno di essere rappresentati all'interno della società, avere pari diritti, non essere discriminati, è un bisogno di un tipo molto specifico, molto importante. Non c'entra niente con la lingua. I bisogni che hanno a che fare con la lingua sono bisogni linguistici che con la società, cioè, ma proprio c'entrano molto lontanamente e non c'entrano niente comunque con la morfologia della lingua. Cioè al massimo con il lessico. Quindi dico, certo che abbiamo coniato, è nata spontaneamente nella lingua, diciamo la parola non binario che prima non esisteva. Il lessico serve a descrivere la realtà. Ma la morfosintassi no. Però questa è una cosa così, cioè, se la gente a scuola avesse studiato bene cos'è il lessico e cos'è la morfosintassi, forse non ci sarebbe bisogno di questa discussione. Purtroppo però, io lo ripeto da due anni, ma mi sembra che non ci siamo. Cioè sono veramente due cose molto diverse. La struttura della lingua non c'entra niente con la realtà, non c'entra niente con la mentalità. È semplicemente un'ossatura. Poi non sappiamo perché lingue diverse abbiano strutture diverse. Questo è ancora un grande mistero. Sicuramente serviranno tecnologie diverse che ora non abbiamo per saperlo. Però, di fatto, quale che sia la ragione per cui ci sono lingue agglutinanti e lingue flessive, lingue con genere grammaticale, lingue senza, questa struttura della lingua, quale che sia, non ha ripercussioni sul modo di pensare, non descrive la realtà. Il lessico la descrive. E quindi le parole. Allora, ok, sulle parole possiamo ragionare. Sempre, però, anche lì, non semplificando, perché poi è molto più complesso. Sì, però, per quanto riguarda il lessico, effettivamente la parola schwa è stata in grado da sola, come un incantesimo, di creare una comunità. Ci sono persone con la schwa e persone senza la schwa, tipo con glutine e senza glutine, nel senso, sono persone che hanno bisogno di quella roba lì e persone che no. Ti continuo sempre a dire, va bene, tu esisti, nessuno ti dice di no, però se mi dici che vuoi modificare la lingua, io ti risponderò sempre che questo non funziona. Cioè, lì non posso che fare muro, mi dispiace. E sei disbattista, sentiamo un ragazzo con la voglia blu. E non ti va bene niente. È come dire un terrapiattista che ha ragione, non ha ragione, anche se si sente male se glielo dici, non ha ragione lo stesso. Lascia fare i terrapiattisti, prossimo libro di Yasmina. Grazie. La questione sul fatto che la lingua non posso influenzare il pensiero è molto interessante e già mi chiedevo chi invece vuole promuovere lo schwa al fine, che sappiamo, al fine di inclusività o il linguaggio inclusivo o comunque rimuovere termini offensivi, lo fa proprio sulla base del principio per cui secondo lui questo è vero, cioè secondo lui modificare la lingua sortirebbe questo effetto. E la mia domanda è, ma veramente, è una domanda più etica che linguistica, veramente a noi andrebbe bene questo, cioè andrebbe bene utilizzare uno strumento del genere come linguaggio per effettivamente modificare il modo di pensare delle persone, perché di questo stiamo parlando, vogliamo condizionare le persone a parlare in un certo modo tramite la proposta, finché è una proposta e non è un'imposizione, di un certo tipo di linguaggio. E io trovo che sia un'azione deprecabile, perché non, cioè vogliamo sostenere la libertà anche di pensiero e quindi non trovo che eticamente sia accettabile e mi sorprende che questa questione non sia venuta fuori. Cioè nel tempo cambia la società e quindi cambia che cosa si può dire, che cosa si pensa, che cosa è considerato eticamente corretto, accettabile, sostenibile, no? Quindi non la vedo tanto, cioè nel senso è ovvio che ci saranno dei parametri entro i quali noi ci dovremmo muovere. il fatto che oggi noi diciamo non puoi usare termini razzistici a offendere una persona con termini razzisti o discriminarla anche linguisticamente e verrai sanzionato se lo farai, se noi usiamo quel criterio è una sorta di imposizione sul pensiero, però è giusta, cioè nel senso che all'interno del paradigma di valori che noi abbiamo costruito e che è largamente condiviso a cui siamo arrivati tramite una serie insomma di un'evoluzione anche del pensiero è così. Quindi non so se la metterei esattamente su quel piano perché tutto si può ribaltare ovviamente tu mi dici beh allora oggi usiamo la lingua per insegnare alla gente che le persone non binarie vanno rispettate e quindi ok però domani la possiamo usare per un'altra cosa chi stabilisce cosa è giusto però questo vale per tutto capito? Cioè chi stabilisce cosa è giusto in che senso cioè alla fine la collettività è un tema complesso ovviamente per esempio nel fatto della censura della letteratura questo emerge no? Cioè oggi diciamo questo libro non va bene o queste frasi di questo libro non vanno bene chi lo sta decidendo sulla base di cosa e domani poi cambieranno cioè il principio è facilmente ribaltabile allora a quel punto uno può dirti questa cosa che ieri andava bene oggi non va più bene però in certa misura ripeto questo è anche normale perché appunto le cose cambiano quindi non so se lo userei come come argomento anche perché mi sembra che facilmente possa essere presa per un'estremizzazione un po' troppo capito non mi sembra convincente cioè capisco la domanda ed ovviamente è qualcosa su cui ci interroghiamo credo in generale al di là del linguaggio inclusivo però non so mi sembra molto attaccabile ecco un po'